Siamo all'Oyan Club di Cinema Zero, un gruppo di appassionati di cinema. Guardiamo film e diamo ottimi consigli per la visione. Esploriamo il cinema a 360 gradi. L'Oyan Club è stare davanti alla telecamera, ma anche dietro. Passiamo dalla teoria alla pratica del cinema. Partecipiamo a Cineforum e Laboratori. Siamo in prima linea ai Festival Cinematografici. E tu cosa statti?